Come creare un nuovo account su Brawl Stars partendo da zero? Oggi ragazzi vi faccio vedere a livello pratico come creare questo account Molti di voi sulle varie piattaforme, TikTok, Twitch, YouTube, mi continuano a fare questa domanda E quindi io sono curioso di sapere la vostra Quindi, cosa vi devo consigliare? Subito lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella Dove mi trovate? Su Twitch e TikTok, dove streamo tutti i giorni, link sotto in descrizione Se volete avere la mia amicizia potete fare l'abbonamento a 2€ qua su YouTube Insomma, ne vale assolutamente la pena Se invece qualcuno di voi volesse sapere anche quando faccio gli orari di live, cose di questo genere Mi vado a seguire su Insta Detto questo, io direi che non ci perdiamo troppo in chiacchiere e possiamo entrare all'interno del gioco Entriamo all'interno del gioco dove sicuramente vedete delle cose cambiate Sono cambiate veramente tante cose Siamo a 52.095 coppe Un qualcosa di allucinante, un qualcosa di veramente, veramente importante a livello di coppe e di tutto Devo dire che non mi aspettavo una cosa di questo genere È stata veramente devastante questa scalata di questi ultimi giorni Un qualcosa di inaspettato che sinceramente mi ha riempito il cuore E non vedo l'ora di complementare questo mio piacere con lo sblocco di Melody Melody che dovrebbe uscire proprio oggi e che quindi andremo a sbloccare In realtà tra 9 minuti e 50 secondi dovremmo esserci con lo sblocco di Melody Ma questo è naturalmente tutto un altro aspetto che andremo a commentare più avanti Detto questo, siamo in classificata miti La stagione è finita Ho detto che non giocavo tanto questa season Infatti non ho fatto così La prossima season l'obiettivo è arrivare naturalmente a leggenda Ci arriveremo? Penso proprio di sì Senza troppe difficoltà dovremmo raggiungerla Ma poi questo sarà un discorso che faremo più avanti Non voglio starmi qui a dilungare sul per quando, il perché e il per come Profilo 20.987 Quindi siamo a 20.987 win Clan Vaporega Se qualcuno di voi vuole entrare entri Perché tra 8 giorni abbiamo il Mega Salvadanaio Che quindi sarà sicuramente un qualcosa che piacerà a molti di voi Insomma, sapete già tutto il discorso che vi devo fare su XXXY Ma come si crea un nuovo account? Innanzitutto partiamo dal presupposto che potete avere quanti account volete all'interno di un dispositivo Per creare un nuovo account, come sapete, bisogna andare nelle tre lineette È un qualcosa di importantissimo Perché qui c'è tutto il fulcro di quello che è il nostro profilo Quindi partiamo dal presupposto che in questo momento tu hai già un account creato Ok, come nel mio caso Se voi non avete account creati Il discorso è molto semplice Quando entri all'interno del gioco Tu hai fai un tutorial Ti finisci il tutorial E ti sblocchi il nuovo account Il problema è come far diventare questo account Diciamo non annullato Ma aggiungerne un altro Si può fare tranquillamente ragazzi Basta che schiacciate le tre freccioline qua E vi dice sostanzialmente i vostri due account che avete Ok? Quindi questo naturalmente è un qualcosa per chi ha già collegato degli account In questo caso ne due Il mio secondario che è Nabo E il primo che è Vapor Detto questo, non è questa roba che qua ci interessa Ma dovete schiacciare su Supercell ID Ragazzi Schiacciate su Supercell ID Una volta schiacciato su Supercell ID Avrete questa sezione qua con In alto dove vedete 48 I nostri messaggi Quindi le richieste d'amicizia che ci sono state inviate Qua i nostri attuali amici Che non sono tanti perché ho cambiato profilo Ho fatto delle robe un po' particolari Poi trovate i miei giochi Dove sostanzialmente ci sono i giochi collegati tramite questo Supercell ID In questo caso soltanto Brawl Stars Gli altri sono tutti collegati su un altro Supercell ID Che non so per quale motivo si sono sconnessi Penso per discorsi inerenti a Supercell Creator Ma vabbè, ho cose che non mi interessano Quello che invece a voi interessa è il cliccare sopra questo ingranaggio Quindi ripetiamo i passaggi Tre linette Supercell ID Ingranaggio ragazzi, ingranaggio Ok, una volta andati sull'ingranaggio avete due sezioni Impostazioni e abbonamenti Naturalmente ho dovuto scorrere in basso perché c'era la mia mail E evitiamo di farla vedere Ma basta che schiacciate il tasto esci Non cambia account perché se schiacciate cambia account Vi porta all'interno di questa cosa qua Che abbiamo già visto prima e non ci interessa Schiacciamo quindi il tasto esci E mi raccomando fate attenzione che ci sia scritto Stai per uscire, i progressi di gioco verranno salvati Li date il tasto conferma e guardate che cosa succede Pum E' come se noi non avessimo connesso niente al nostro Supercell ID Quindi al nostro Brawl Stars A questo punto per creare un nuovo account Non dobbiamo altare il tasto accedi Perché se cliccate il tasto accedi Vi porta su questa famigerata pagina Che a noi sinceramente non interessa Li date gioca senza Ok? Quindi tre linette Supercell ID Ingranaggio Esci Gioca senza Facile, facile, facile Hai già giocato in passato? Ci dice Supercell ID In questo caso no Perché noi vogliamo creare un account da zero Tranquillamente Tranquillamente giochiamo all'interno del tutorial Un tutorial molto molto basilare ragazzi Che non vi sto a dire La facilità con la quale potete fare il tutorial E' proprio base, base, base Quindi Entrate all'interno del game Vi fate due sparacchetti così Via 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 ragazzi Cioè non è che ve lo devo spiegare io come si fa A fare sto tutorial Vabbè Mi spiega Mi spiega il tutorial Che è sempre lo stesso Quindi tre Tre spari normali Adesso ci saranno i tre spari con l'automira Che vabbè Penso che sappiate un po' tutti come funzionano Quindi Pum E pum Poi Qua ti fa provare la ulti Una volta fatto tutto questo Tu effettivamente puoi Creare un nuovo account Quindi mi raccomando Seguite tutti i passaggi E fatemi sapere qua sotto Quanti account avete collegato Al vostro Supercell ID Perché E' molto interessante questa cosa Al Supercell ID può essere connesso soltanto un account Allora Stipoli scriviamo Tester Ok Lo chiamiamo tester Li mettiamo l'età 20 Gioca Vabbè Ti fa fare anche una partita in sopravvivenza Partita questa qua Iniziale Che puoi andare A Ehm Saltare Semplicemente schiacciando il tasto esci Quindi per Per non farti perdere tempo Ah no No di invece te la fa fare Mannaggino la mannaggia Non volevo farmela Che me la facesse fare E vabbè Andiamo Devi fare anche questa Purtroppo questa partita Un pochetto noiosa Vabbè Te la fai E non è che Che sia niente di difficile I bot sono tipo a livello 0 Ehm Quindi è tipo La passeggiata della vita Ehm Se la dovete fare Ve la consiglio Allora Vabbè Pum Pum Ok Poi vado da qua Da Shelly Altro boom 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 Easy Non ci posso mai credere Vieni giù Vieni giù Ah ok Tre brawler rimanenti Uno di questi Anzi Sono tutti e due Vedo tutti e due Quindi risolviamo il problema Senza nessun tipo di discorso 20 di vita Potevi anche andare Oh frate Vai giù Bello 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 Eh diciamo che te puoi creare Riuscite a creare un nuovo account Quanti ne avete all'interno E collegate all'interno Del vostro gioco Mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Attivare la campanella Noi ci vediamo tutti i giorni Qua alle 14 Su youtube Con nuovi video bomba E mi raccomando Condividetelo con i vostri amici Ciao belli E cliccate uno di questi due Che sono uno più bello dell'altro